Salve a tutti. All'inizio di questo mese è uscito il secondo aggiornamento maggiore di No Man's Sky. Il Pathfinder Update. Con questo video andremo a vedere le novità introdotte e faremo anche alcuni cenni alle mod compatibili. Trovate ovviamente link a tutto il materiale in descrizione, sotto l'indice cliccabile per argomenti. La prima cosa che mi è saltata all'occhio dopo questo aggiornamento è stato il netto miglioramento delle performance del gioco. Come potete vedere, ora il pop-up delle texture durante l'atterraggio sui pianeti è quasi assente sul mio PC che monta una scheda Nvidia GTX 960. L'unica cosa che ha fatto pop-up adesso è stata quella costruzione volante, che però non fa parte del gioco vanilla, ma è fornita da una mod chiamata Alien Structors. Queste ed altre mod possono aggiungere nuove costruzioni al gioco e le trovate in descrizione. Altra caratteristica del gioco che è stata nettamente migliorata è la grafica. Oltre a performance migliori, ora infatti sono stati aggiunti nuovi effetti, come i raggi crepuscolari. Inoltre, come potete vedere, ora camminando a piedi non si registrano più né cali di frame rate né pop-up degli oggetti. Questo sicuramente migliorerà anche la qualità delle cinematics che io ed altri stiamo facendo con No Man's Sky. Se volete andare a vedere quelle girate da me, le trovate nella rubrica Music Play del mio canale. Quella che ho appena attivato invece è la nuova modalità foto. Con questa nuova caratteristica del gioco è ora possibile scattare più facilmente fotografie e condividerle su Steam. Attivando la modalità foto dal menu che compare premendo X, infatti il paesaggio si congelerà e voi potrete scattare le foto premendo semplicemente il tasto sinistro del mouse. Da questa modalità è anche possibile muoversi intorno, cambiare l'ora del giorno, la posizione del sole, ed applicare dei filtri simili a quelli utilizzabili su Instagram. Le foto inoltre non avranno più lood. Questa è sicuramente una delle migliori sorprese di questo update. Il top sarebbe se in futuro Hello Games realizzi anche una modalità video per le cinematics. Altra importante novità riguarda le navi. Ora infatti, se si possiede un mercantile, è possibile averne più di una. Inoltre le navi del gioco ora possiedono delle specializzazioni che le rendono più adatte ad un compito invece che ad un altro. I caccia sono utili in combattimento, i cargo sono navi da trasporto, le navette fanno un po' di tutto e le esploratrici invece hanno dei bonus relativi all'iperguida. Sempre per le navi sono ora disponibili anche differenti bocche di fuoco e sono divise in classi da AC, a seconda della rarità e della potenza. È possibile inoltre ora dare un nome alle navi. Anche i multitool ora sono specializzati. Le pistole vanno bene per tutto, i fucili hanno bonus in combattimento, gli sperimentali nell'esplorazione ed infine gli alien sono pezzi rari e potenti. Manca ancora però una differente manovrabilità a seconda del tipo di nave. Nel gioco ora difficilmente le tecnologie si trovano esplorando. Saranno infatti dei mercanti, trovabili nelle stazioni spaziali e nella base del giocatore, a vendercele in appositi shop in cambio di una nuova valuta. I cluster dinamiti. Questi cluster si trovano ora dove prima si trovavano troppo facilmente le tecnologie, cioè sulle macchine danneggiate nelle basi aliene. Inoltre, per acquistare una tecnologia nuova, sarà anche necessario avere rapporti di un certo livello con la razza in questione. Differenti razze poi vendono differenti tecnologie. I jet si occupano delle navi, i kurvax dell'exo tutta, i weekend delle armi. Il venditore nella tua base invece ti fornirà nuovi pezzi per la base. Prima di vedere le prossime novità non possono citare un interessante progetto portato avanti da alcuni fan di No Man's Sky su Reddit. Come molti sapranno, Murray disse che il multiplayer del gioco ci sarebbe stato, ma che sarebbe stato comunque quasi impossibile beccarsi per la vastità dell'universo, mentendo all'utenza. Se è infatti vero che è impossibile vedersi in gioco perché un vero multiplayer non è mai stato implementato, non è vero che non è possibile raggiungere la stessa posizione di un altro giocatore. Murray in questo era stato già smentito in estate pochi giorni dopo dal rilascio del gioco. Ma questi volenterosi utenti di Reddit hanno fatto di più. Hanno creato il Galactic Hub. Il Galactic Hub è un progetto che intende mappare un intero settore dell'universo di No Man's Sky e che è basato sulla cooperazione fra utenti. Un centinaio di persone si sono infatti trovate in un unico punto della galassia di Euclide, la prima del gioco, ed hanno iniziato ad esplorare. Nell'universo per PlayStation 4 hanno già mappato un'intera regione in pochi mesi, pianeta per pianeta. Per raggiungere il Galactic Hub è necessario potersi muovere rapidamente nella galassia. Ciò è possibile mediante i buchi neri, che non vi spoilerò come trovare, potenziando al massimo l'iperguida, o usando come ho fatto io la modalità creativa ed una mod che vi fa muovere nella galassia per un numero limitato di sistemi. In creativa infatti all'inizio non avrete le tecnologie di iperguida avanzata e non sarà semplice procurarvele senza prima avere ottimi rapporti coi Jack. Cosa che non è così immediata. Ma, una volta soddisfatto questo requisito, come mi oriento nella galassia per arrivare all'Abi? Il sito che vedete ora a schermo, e che trovate in descrizione, vi indicherà la direzione da seguire relativamente al centro della galassia, che è il punto più luminoso dello spazio galattico. Unica cosa che dovrete fornirgli sono le coordinate del sistema in cui vi trovate, coordinate che potrete ottenere atterrando su un pianeta, piazzando un ricevitore di segnale, e copiandovi i numeri e le lettere che ne compongono il nome. Tale nome contiene le coordinate del sistema in cui vi trovate. Dopo alcune ore di navigazione in creativa, sono finalmente arrivato all'Hub. Qui è pieno di pianeti già esplorati da altri giocatori. Vedremo fra poco come questo sia importante con questo update. Altra a mio parere importantissima novità è la possibilità ora introdotta di impostare come punto di navigazione i sistemi già esplorati. Finalmente ora è possibile tornare comodamente nei mondi idilliaci già scoperti senza impazzire. Inoltre un po' tutti i menu sono stati rivisti e migliorati. Un'altra mod molto interessante si chiama Dark Cales. Questa mod riempia di colori e nuovi oggetti le caverne del gioco, rendendole molto più interessanti da esplorare e quindi supplendo a un grosso punto debole del titolo. Purtroppo molti di questi nuovi oggetti non sono scannerizzabili col visore, ma comunque non lo sono anche molte rocce e piante presenti nel gioco vanilla. Se i mod raggiornassero anche la mod che crea i pianeti tropicali che ho usato per molte cinematics, poi sarei al settimo cielo. Benvenuti a Trispool. Il pianeta casa di Murmux nel Galactic Hub. Questa base l'ho appena costruita in questo luogo, in cui credo ambienterò anche le prossime cinematics, proprio per sfruttare a pieno questo aggiornamento. Le basi ora hanno a disposizione molte più parti da utilizzare, sebbene non possano essere ingrandite molto. Inoltre possono essere condivise sullo Steam Workshop e gli altri giocatori possono raggiungerle esplorando. La posizione nell'hub dovrebbe facilitare questo nuovo aspetto del gioco. Detto questo, passiamo alla novità più famosa di questo update. I veicoli. Ne esistono di tre tipi, con differente potenza e manovrabilità, e sono tutti customizzabili, acquisendo le tecnologie necessarie da un esperto weekend reclutabile nelle stazioni spaziali. Alcuni minerali poi sono rompibili solo con laser minerario dei veicoli, che in questo gioco si chiamano exoscafi. Gli exoscafi inizialmente potevano essere costruiti solo nel pianeta dove si trova la base, che ricordo è massimo una per giocatore, ma poi la Hello Games ha aperto gli occhi, ricordandosi che No Man's Sky è un gioco di esplorazione e non un Minecraft, e li ha resi costruibili ovunque. In modalità normale e survival però il costo di produzione dei veicoli è talmente spropositato da renderne l'utilizzo non conveniente, ma per fortuna un modder ci ha messo una coppa facendo costare le piattaforme per reclutarli solo 50 unità di ferro. Prima che mi dimentichi, nel gioco è stata anche introdotta la modalità hardcore, che è il permadeat. I difetti principali dei veicoli sono il fatto che si manovrano col mouse e non con i tasti direzionali come avviene negli altri giochi di corse e che pilotandoli si hanno comunque alcuni spike di lag. Per fortuna anche qui una mod ha un po' migliorato la manovrabilità. Comunque, se vi state chiedendo cosa sto facendo e perché nella base ho messo il messaggio con scritto multiplayer, beh, non sembra, ma in questo momento sto giocando in multiplayer. È per questo che ho voluto raggiungere l'ad. No Man's Sky da questo update ha infatti il multiplayer. Certo, non si vedono gli altri giocatori, ma è comunque possibile gareggiare contro di loro nei tracciati creati attorno alle basi, cercando di battere i loro record. Quindi, se avete il gioco, vi invito a raggiungere l'ad e a sfidarmi nel mio tracciato. Io farò lo stesso con voi e con gli altri giocatori. Per raggiungere la mia base, mettete queste coordinate che vedete in sovraimpressione e che trovate anche in descrizione come destinazione nel sito che vi ho mostrato prima per raggiungere l'ad. Detto questo vi mostro l'arresto del tracciato e vi do il solito a rivederci alla prossima. Sarebbe bello a questo punto nel prossimo update dare la possibilità di costruire più basi e magari implementare altri tipi di multiplayer, tipo i tower defense nelle basi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.